Occhio ai giornali di martedì 10 agosto, buongiorno a tutti voi cari telespettatori di Fano TV sintonizzati come tutte le mattine sul canale 17 di Fano TV, visibile in tutta la regione Marche, sul digitale terrestre, ma anche sulle nostre piattaforme, su Facebook, YouTube, su occhionanotizia.it. Iniziamo con il santo che oggi è un santo conosciutissimo perché è San Lorenzo, il 10 di agosto, quindi la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti, il sole sorto alle 6.06, tramonterà le 20 e 20 minuti. Dando lo sguardo al tempo, prossito dalla protezione civile delle barche, vediamo se le nuvole ci consentiranno di tenere il naso all'insù e di guardare qualche frammento illuminare la notte. Vediamo se sarà così. Io direi di sì perché comunque il cielo è parzialmente nuvoloso, ma stasera poi migliorerà. Domani mattina il tempo, vedete, sulla costa adriatica è sereno e così anche nella giornata di giovedì. Le temperature sono senza variazione di rilievo, comunque farà molto caldo, tempo stabile anche nel fine settimana. Allora andiamo idealmente a prendere, no, una boccata di fresco, no, perché anche in riva al mare sappiamo che questa mattina anumana c'è un'umidità che fa paura. Roberta, buongiorno, Roberta Pincini dai bagni da marino, che è collegata in diretta. Allora, quella nuvoletta laggiù, che cos'è, Roberta? Buongiorno Marco, ahimè, siamo pieni d'umidità. Ah, hai visto. Quindi non state bene neanche voi al mare, eh, neanche voi al mare. Ahimè, solo a mollo. A mollo, a mollo. Però l'acqua, rispetto a ieri, il mare, se ce lo fai vedere un attimino, è una tavola piatta stamattina. Sì, oggi è meraviglioso. Con dei colori belli, perché tra l'altro c'è questa alternanza con le nuvi, quest'oro, il mattino ha l'oro in bocca, quindi quest'oro potrebbe essere di buon auspicio. Allora, questa coppia bellissima, lasciamola, lasciamola, come dire, nella loro privacy, giriamoci, se tu ti giri andiamo a vedere invece quello che c'è alle tue spalle, le colline, il verde, cosa c'è? Andiamo a vedere. Sì, guarda, allora, questo qua dietro, che vedi dietro di me, è esattamente il paese di Numana. Che bello. Guarda che bello. Anche dei pini marittimi laggiù, sembra quasi uno spaccato. Sì, sì, sì. Siamo di essere nel Lazio. Bene. Andiamo, quello è il tuo stabilimento, quindi, a questo punto, no? Possiamo dire. Sì, Marco. Questo qua dietro, quello chiaro. Che bello. Vedi? Questo spaccato, invece, assomiglia un pochettino al Trafano e Pesaro. abbiamo Sottomonte, non so se è presente. Sì, sì, conosco la zona. Ecco, sì. Molto bello, davvero molto bello. Allora, che cosa possiamo dire? Che oggi sarà una bella giornata, comunque. Speriamo. Anche bella proficua. Proficua e soprattutto anche per voi. Quanti siete lì con te allo stabilimento? È una bella aziendina perché siamo più di 20. Voi là? 20 persone. Allora, anche per te l'invito, appena hai un attimo, a fare una bella fotografia tutti insieme, così sabato, nell'ultima giornata, nell'ultima puntata, faremo vedere anche i tuoi collaboratori. Va bene? Molto volentieri, grazie. Poi domani parleremo di cucina con te. Ottimo, sono pronta. Bene, grazie Roberta, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Allora, andiamo a vedere adesso i giornali. Come sempre, il Corriere, anzi il Carlino questa mattina, apriamo con il Carlino di Pesaro. Troppi per i tamponi, scoppia la lite, tanti in fila al campus per lo screening gratuito e quando i medici dicono stop, alcuni degli esclusi si ribellano. A centro pagina invece una foto curiosa, tra l'altro, perché non siamo all'estero, non siamo in terra africana, siamo qui a Pesaro, a Belforte, in provincia di Pesaro dunque. Il record dell'Africa promo foot dove ci sono 23 calciatori che fanno parte di questa squadra tutta nera, come titola appunto la fotonotizia, 23 calciatori e 7 dirigenti tutti extracomunitari. Poi la notizia, qui di spalla invece, vedete, al Santa Croce di Fano, all'ospedale di Fano, contagiata una dipendente Novax e in reparto scatta l'allarme. Assunti da Asur e altri operatori sanitari, in 52 realizzano il sogno del posto fisso, qui invece sotto il coltello, non era mio, mi sono solo difeso, a Marotta, uno degli arrestati dopo la mega rissa, parla uno dei quattro arrestati. Oggi tra l'altro si attende la convalida dell'arresto. scoperta dopo il furto, invece, si inventa una violenza, una nomade che è stata inseguita in via Branca a Pesaro, mentre il Corriere Adriatico apre con tamponi sold out per il pass. A centropagina, ieri sera la prima del Mois, al Rossinio Pra Festival, red carpet con controllo, e poi primi provvedimenti, ferie forzate e sospensioni per 43 sanitari non vaccinati. Le notizie in breve, sempre dalla prima del Corriere, Baby Coppi attenta a un furto in un'abitazione inseguita in centro, a Marotta per la mega rissa e scarica barile tra gli arrestati, e a Fano, precipitato nella gola il dolore dei colleghi, Ale il più educato. Capitale della cultura, si coinvolgono i giovani da Pesaro, vimini esercizi creativi per la città del futuro. E poi, una breve di sport, la vis Pesaro inizia a Siena in un girone molto tosto. Allora, la maxi rissa di Marotta, quella che si è consumata sabato mattina, parla uno dei quattro arrestati, che dice, si difende, il coltello non è mio, i senegalesi e i marocchini ci hanno aggredito, quindi mi sono difeso. I difensori hanno chiesto la scarcerazione. Il titolo, l'accoltellatore, svicola sulle colpe. Tutto sarebbe nato da un battibecco tra albanesi e italiani con l'arrivo dei senegalesi. Questo è il risvolto. Poi, andiamo a vedere invece come titola su questa notizia il Corriere Adriatico. È già scarica barile sulla maxi rissa, inquirenti a caccia di due testimoni. Il giudice decide oggi sulla convalida dei quattro arresti. Migliore intanto il senegalese accoltellato, che è stato ricoverato in prognosi riservata. Da Fano, invece, è sportivo e amante dell'avventura, shock e dolore per la morte di Ale. L'istruttore che è precipitato alla gola della rossa era di Rosciano di Fano. I colleghi lo descrivono come una persona educatissima. Alessandro Liva aveva 31 anni, era esperto di trekking e di montagna. La Procura vuole escludere comunque colpe. Mentre sulla pagina del Carlino, escursionista morto, non servirà all'autopsia. Per il PM si è trattato di un incidente. Dunque si terranno giovedì funerali di Alessandro Liva, il 31enne che ha perso la vita a Genga. Tra l'altro, ricorda Gianmarco, il fratello più piccolo. Adesso non resta che attendere il rientro della Salma. Aspettiamo che lo riportino a casa. Gianmarco racconta come suo fratello Alessandro fosse già stato sfiorato dalla morte. Aveva 11 anni, io ero piccolino, dice, e un'auto lo aveva investito. Era in coma, era stato in coma per circa quattro mesi, ma poi si era ripreso ed era tornato alla vita più forte di prima. L'altra pagina invece del Carlino, quella di Fano, pagina 12, c'è la storia raccontata qui questa mattina di un 91enne che ha atteso per giorni un intervento. Ogni volta veniva rinviato, il primario dice i valori non lo consentivano e quindi dal 4 fino al 7 di agosto è stato ricoverato in ortopedia al San Salvatore. Poi raccontano i figli, abbiamo firmato per farlo uscire perché lì non veniva mai operato e c'è il motivo ovviamente che potrete leggere sull'articolo che è sul giornale. Sabato però, questo per farvi capire, sabato l'ho fatto dimettere, dice uno dei figli, e mi sono organizzato per farlo ricoverare a Bologna al Rizzoli. Qui parla anzi l'avvocato. Ma la replica del direttore dice monitoraggio continuo, l'indice di coagulazione rendeva alto il rischio di sanguinamento e quindi non è stato possibile operarlo. Mentre a pagina 12, il Corriere Adriatico, una baby coppia, una coppia di giovani, tenta il furto in una casa. Però che cosa è successo? Lo racconta questa mattina Luigi Benelli. Allora, succede questo, che una giovane coppia, lei ha appena 19 anni, il suo compagno invece è minorenne, entrambi hanno tentato di mettere a segno un furto in un'abitazione in via Branca a Pesaro. Però che cosa è successo? Che a un certo punto il proprietario è rincasato, è tornato in casa e quindi la coppia ovviamente, sentendo dei rumori, ha iniziato a darsela a gambe. E qui c'è il racconto. Neanche il tempo di cercare qualcosa che hanno sentito dei rumori, il proprietario di casa che è rientrato, così i due ladruncoli se ne sono dati a gambe, si sono dati alla fuga. Ma il proprietario non si è accontentato del fatto che fossero usciti di casa e buonanotte. No, è scattato l'inseguimento a piedi per le vie cittadine. L'uomo, ovviamente non è che era torso nudo, quindi è uscito in strada inseguendo queste due persone, in particolare la donna che a un certo punto però ha iniziato a urlare, aiuto mi vuole violentare, fermatelo, furba. Capito? Era mezzo nudo, la stava inseguendo, ha detto io provo a depistare un po', dico che mi sta inseguendo perché mi vuole violentare, magari qualcuno lo bracca, qualcuno lo blocca e io intanto riesco a farla franca. Così non è andata e quindi cosa è successo? Che nessuno è intervenuto per bloccare l'uomo a torso nudo e quindi nel frattempo sono stati chiamati i carabinieri che hanno fermato la coppia eccetera eccetera. Si sono giustificati dicendo che hanno un figlio piccolo da sfamare. Cresce il gioco legale invece, questa è la pagina di Urbino, il gioco legale patologico. Ora durante il lockdown tutti hanno approfittato della rete, non solo per guardarsi i film ma anche per giocare, per esempio, in tanti hanno iniziato a giocare e poi quando si comincia è difficile finire, quindi molti giochi d'azzardo, chiamiamo giochi d'azzardo, ma sono tutti giochi legali, più o meno quelli che ci sono sulla rete. Hanno iniziato a giocare e quindi adesso diventa un problema fermarli. Così come con i siti pornografici, è la stessa identica cosa, tantissima gente ha iniziato, magari prima non ci pensava nemmeno, ma ha iniziato nella noia a guardare i siti pornografici e una volta iniziato, ciao, è difficile poi smettere. Insomma, sono tutte patologie, sono tutte dipendenze che in qualche modo vanno affrontate. E questo del gioco legale patologico trova spazio questa mattina sul Corriere Adriatico, quindi al di là della pornografia c'è il discorso del gioco legale patologico. In un anno 816 euro ad abitante, questo è il dato dei monopoli sulla spesa che riguarda solo gli abitanti di Urbino. Quindi questi urbinati che hanno iniziato a giocare sulla rete spendono in media 816 euro ciascuno ed è, secondo i sindacati, una piaga sociale. E quindi è un fenomeno che è tutt'altro che in calo. La pagina di Fano invece del Corriere, intitolata è Quel ponte a Bigio. Bigio chi è? Per chi non lo conoscesse, è il soprannome di Pierluigi Ricci che quattro anni fa fece un gesto eroico di cui se ne parlò tantissimo perché salvò la vita ad un padre e i suoi due figli, morendo, quindi sacrificando la sua vita in acqua, in mare. Faceva il bagnino ed oggi a distanza di quattro anni c'è un suo amico che si chiama Mario Barbaresi, una figura tra l'altro molto nota a Fano per il suo passato da calciatore che chiede ancora una volta, e lo fa attraverso Facebook eccetera, raccogliendo delle firme di intitolare appunto a Bigio il ponte dell'Arzilla che si trova a Fano. Andiamo sulla pagina 20 invece del Corriere Adriatico, la pagina della Valmetauro, ma riguarda un fatto di cui il giornale si è occupato più volte. La fotografia in molti ricorderanno Sergio Scrofani che lavorava nella sede del 118 di Calcinelli per la Croce Europa-Valconca. Ora la famiglia di Sergio Scrofani continua a chiedere giustizia per la morte di Scrofani avvenuta per Covid-19 alla fine di marzo dell'anno scorso. Ora dopo l'esito negativo della denuncia penale che ha visto il giudice per le indagini preliminari accogliere la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica per la mancanza di evidenze sulla responsabilità del datore di lavoro, la moglie, la figlia e la sorella della vittima proseguono però la loro battaglia legale e adiscono il giudice del lavoro convinte che Sergio Scrofani, morto 23 giorni dopo la manifestazione dei primi sintomi della malattia, abbia contratto il coronavirus durante il servizio. A causa però della mancata adozione di adeguate misure di prevenzione. Questa è la notizia, diciamo la novità su questa vicenda. Poi c'è la cronaca, incidenti, tanti incidenti, questo caldo non aiuta perché il caldo stanca, il caldo annebbia la vista, quindi prestate davvero molta attenzione quando si è in macchina perché sono giorni questi molto difficili, poi l'umidità lo stesso a una certa ora rende tutto molto più complicato. Allora, schianto affrontale all'incrocio, gravi lesioni per uno scuterista, l'urto sulla Pergolesi a Ponteria, un 59enne è stato soccorso dall'eliambulanza, questa è la notizia, lo scontro mentre l'auto svoltava in via Sclavini, traffico ralentato per mezz'ora. Ancora scontro, questo è il Carlino, invece scontro automoto, ferito un 59enne, l'incidente è avvenuto alle 7.30 lungo la strada della Val Cesano, il Centauro è stato trasferito in eliambulanza alla Torrette di Ancona. Da Fano invece travolta in bicicletta da un furgone, paura e traffico in tilt in Viale 1 maggio. Candele, proteste contro l'ordinanza, qui andiamo a Pesaro, perché chi dice no deve chiudere, cioè perché chi non partecipa a questa iniziativa ma che ha per esempio la sua attività sul lungomare dove questa sera si svolgerà appunto la notte delle candele è costretto a chiudere. Ecco, alcune associazioni come Confcommercio e alcuni partiti come Fratelli d'Italia si oppongono al divieto del sindaco Matteo Ricci, il divieto per le attività degli stabilimenti che non adiriscono all'iniziativa, cioè se tu ci stai in sostanza tieni aperto, puoi tenere aperto, se tu non partecipi devi chiudere. Ecco, non ci avete neanche avvertito, insomma questo è un po' l'andazzo a Pesaro. E poi ecco c'è l'articolo dove per esempio Confcommercio Marche, Marche Nord, ma anche come dicevamo Fratelli d'Italia vogliono un po' chiarezza, con quali poteri si domandano il sindaco può impedire ad altri di esercitare il proprio lavoro e sulla base di quali ragioni per adesione cosa si intende? Il Green Pass in tutto ciò non c'entra nulla, perché per i ristoranti e i locali all'aperto avere la certificazione verde come da decreto legge non serve. E allora eccetera. Poi sul fronte invece, per quello che riguarda i controlli, non dimenticate che chi stasera deciderà di andare appunto in spiaggia a Pesaro potrebbe subire dei controlli, controlli che saranno a campione, verranno fatti dalle forze dell'ordine, per lo più vigili urbani, nelle zone dove ci saranno maggiori assembramenti, dice il vice sindaco Vimini, l'obiettivo del comune di Pesaro è quello di avere il maggior numero possibile di partecipanti con il Green Pass, ma per bagnini e ristoratori che operano all'aperto non sarà necessario fare alcun controllo. Qualora venisse trovata una persona senza Green Pass, la sanzione non verrebbe estesa al gestore del locale, prosegue Vimini e quindi la sanzione è solo a carico dello sfortunato che magari voleva gustarsi una serata tranquilla in riva al mare, ma che a causa di questo divieto, di questa legge non può perché magari non ha il Green Pass. Litte al bar per una mascherina, ecco questa è un'altra notizia che arriva da Falconara, insulte e minaccia un poliziotto, la gente gli chiede di indossare la chirurgica, lui reagisce e chiama i carabinieri, è stato denunciato, è successo a Falconara qui vicino, entra al bar senza mascherina, spintona un poliziotto che lo invitava ad indossarla e chiama i carabinieri. Però per lui è stato un autogol perché alla fine ad essere denunciato è stato proprio lui. A finire nei guai un cinquantenne falconarese, ieri mattina intorno alle 8, è venuto alle mani con un agente della polizia penitenziaria, è accaduto all'interno di un bar di Castelferretti, l'uomo è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale, rifiuto a fornire indicazioni sulla sua identità. E a Senigallia, poco più a nord, risse in spiaggia e danni colpiti anche noi. Dopo Marotte il presidente di Oasi lancia l'allarme, la situazione è intollerabile, servono più controlli e ogni fine settimana scorribande di ubriachi. Pure i residenti richiedono una task force contro la movida molesta. E sempre da Senigallia, ladri scatenati, spariti, zaino, bicezaino, un furto ripreso però dalle telecamere, successo a Marzocca. Mentre dal Corriere di Senigallia, addio a nonna Severina, una centenaria di tre castelli. I funerali si terranno oggi alle 17 nella chiesa di Ripeti tre castelli, tre castelli dove abbiamo un sacco di telespettatori, non lo sapevo, questo ci fa piacere, li salutiamo. Allora non ce l'ha fatta purtroppo Severina abbondanzieri, questa centenaria che purtroppo lo scorso 30 luglio era caduta. La donna si è spenta l'altro giorno all'ospedale di Senigallia dove era stata subito condotta da un'ambulanza dopo appunto l'infortunio. Poi ecco come riconoscere i veri tecnici. Edma Retigas, ma questo vale per tutti, non solo Edma Retigas, perché quando diciamo come riconoscere i veri tecnici, possono essere tecnici, possono essere corrieri, possono essere chiunque. Clementi dice, dopo che c'è stata un'anziana truffata, dice noi non chiediamo mai i soldi, soprattutto per interventi di riparazione di caldaie. Con la scusa di riparare la caldaie le hanno infatti spillato 900 euro. Dicono quelli dell'azienda, per prima cosa è importante chiarire che le nostre squadre di intervento non fanno alcun tipo di intervento sulle caldaie e vengono a contatto con l'utente solo in due fatti specie. Nel caso in cui la richiesta di intervento parta dall'utente attraverso il numero verde, oppure per la sostituzione del contatore. Ma nessuno chiede soldi. E voi non datene mai, insomma. Ecco. Domani il Fano invece, e parliamo per chiudere di sport, una brevissima notizia di sport dal Corriere Adriatico. Domani il Fano saprà il suo destino. Serie C o serie D, dopo il ricorso ormai imminente, la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni. Nei calendari pubblicati ieri c'è una X nel girone B. L'Alma e la Pistoiese sono in corsa per un posto. Vedremo chi delle due la spunterà. Grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa. L'informazione sul canale 17 di Fano TV torna questa sera alle 20.30 con occhio alla notizia. Come sempre vi ricordo il 338 4968 250 per mettersi in contatto con noi e per farci le vostre segnalazioni che sono per noi della redazione preziosissime. Grazie e buona giornata a tutti.